La FIALS Salerno ricorre ai carabinieri del NAS per la situazione esplosiva che da mesi viene denunciata e puntualmente rappresentata. Gli operatori sono allo stremo delle forze. Nel presidio ospedaliero di Agropoli e nelle unità operative di terapie intensive e malattie infettive persistono carichi di lavoro insostenibili che mettono a rischio la salute dei degenti, dei cittadini e lavoratori, carenza di personale, turni insostenibili, rendono invivibile l'ambiente lavorativo con una ricaduta importante sulle prestazioni clinico-assistenziali a favore dei cittadini. Tale situazione, come definito dalla legge, espone i cittadini a rischio di errori, casi di mala sanità e gli operatori intercorrere in reati di tipo penale. Preme sottolineare, fanno sapere dal sindacato, che la FIALS ha più volte segnalato tali criticità alle direzioni competenti senza ricevere alcuna risposta. Inoltre è stato attivato lo stato di agitazione con la prefettura di Salerno senza alcun riscontro di quanto dichiarato nel verbale sottoscritto. Lo scenario che rappresentiamo è altamente preoccupante, da cui deriva una enorme difficoltà nella copertura dei turni di servizio, che incide negativamente sul rendimento ottimale delle prestazioni erogate del personale succitato, senza tralasciare il fatto che allo stato attuale si rischia della severa compromissione della programmazione dei congrui periodi di riposo, in quanto, per garantire i LEA, vengono sistematicamente saltati i riposi, rendendo quasi improbabile la possibilità di usufruire di istituti contrattuali, quali permessi e ferie, oltre a permettere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Assolutamente impossibile garantire e rispettare la 161 2014. Pertanto, per i motivi sopra elencati, a seguito delle numerose segnalazioni in evase dalla direzione dell'Asela Salerno, il segretario provinciale FIAS Salerno, l'opopolo Carlo, ha presentato in data 11 maggio un esposto denuncia presso il Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS di Salerno.